C'è un signore che cammina per una fiera, a un certo punto mentre cammina vede il camioncino degli hot dog si avvicina e comincia a guardare in segna e fa Scusi me ne dà uno? E so via, le fa il panino e io lo dà Lui se lo cominci a mangiare Mmm buono A un certo punto riguarda in segna e guarda quello del camioncino e fa Scusi ma che vuol dire hot dog? Quello che fa cane caldo signore Lui apre il panino e fa Ho capito ma proprio perché adesso mi dovi dare?